Con noi perché sempre più libertà siano certe per legge e non la gentile concessione di qualcuno. Con noi perché ogni diritto conquistato è un'opportunità che si apre per tutti e mai un limite per nessuno. Con noi per istituzioni trasparenti, presupposto di ogni solida democrazia basata sullo Stato di diritto. Iscriviti a Radicali Italiani, unisci la tua voce a quella di chi ha sempre lottato anche per gli ultimi, anche per i più fragili, per chi non avrebbe avuto voce. Iscriviti, fallo ora.